Ursula, solo che perché ho bisogno del tuo aiuto, non so come conquistare Eric. Vieni bambina, ma sappi che se vuoi ottenere ciò che vuoi dovrai darmi la tua voce. La mia voce? Ma senza la mia voce come farò a conquistarlo? Come gli parlerò? Bambina, ma lo sai che per conquistare un uomo si possono utilizzare molti altri mezzi tipo il linguaggio del corpo? La mia voce? Va bene, farò ciò che vuoi per lui. Ora, canta! Canta!